Il nostro progetto è stato il tema del convegno organizzato da Civiche per l'Abruzzo. Le conclusioni sono state tracciate dal candidato presidente Fabrizio Di Stefano, il quale ha esposto un decalogo dei valori fondamentali nella sanità abruzzese. Per garantire la sostenibilità è necessaria una trasformazione del sistema che deve procedere attraverso rafforzamento e riorganizzazione dell'assistenza territoriale. In pratica, secondo Di Stefano, trasferire al domicilio dei pazienti o a strutture di prossimità quelle prestazioni che oggi sono erogate impropriamente in ospedale sarebbe una pratica virtuosa che alleggerirebbe la pressione sugli ospedali, migliorando il contesto in cui opera lo stesso personale ospedaliero. Quanto ai riassetti organizzativi delle ASL, evitare la competizione campanilistica tra le strutture ospedaliere dei quattro capoluoghi ma invece sinergizzarli per offrire una migliore sanità e più forte sanità agli abruzzesi. Come evitare, ad esempio, di abbandonare e di smettere tutte quelle strutture ospedaliere che oggi abbiamo anche nelle zone disagiate e come poter rendere migliori servizi proprio nelle zone disagiate perché le zone disagiate, l'entroterra è oggi un peso ma può diventare una ricchezza. Altro obiettivo è quello di reinterpretare una sanità privata accreditata quale effettivo e efficace complemento in risposta alle criticità dell'offerta sanitaria pubblica con l'obiettivo di ridurre le liste di attesa e soprattutto la mobilità passiva regionale. Particolare considerazione, è concluso Di Stefano, va data alle opportunità offerte dal project financing in ordine alla ristrutturazione, riqualificazione e rinnovamento della rete ospedaliera regionale. Il Presidente Fittori aveva fatto, aveva deciso bene